Natale, Padre Pio TV ci sta aiutando a scoprire i sogni, i sogni di Giuseppe, poi vedremo il sogno di Maria e il sogno di due donne, Elisabetta e la cugina Maria che va incontro ad Elisabetta. Ma oggi finiamo un po' di dire qualcosa sul sogno di Giuseppe. Vedete, Giuseppe non ha avuto paura di accogliere il progetto di Dio che ha rivoluzionato tutti i suoi progetti e tutti i suoi sogni, ma è proprio perché ha accolto questo progetto che Giuseppe ci insegna a vivere la paternità. Il Natale deve essere per tutti una riscoperta dell'essere padri e dell'essere madri. Qualche settimana fa un nostro sacerdote amico, Don Antonio Mazzi, ha compiuto 90 anni, quindi anche se con un po' di ritardo insieme agli auguri di Natale facciamo gli auguri a Don Antonio Mazzi. Ripercorrendo un po' tutta la sua vita. Ha detto qualcosa che deve farci riflettere e cioè che oggi ci sono tanti padri, ma c'è un'assenza di paternità e la debolezza, la fragilità, i problemi che i nostri ragazzi hanno sono dovuti essenzialmente a questa mancanza di paternità. Vedete, essere padri è una cosa deversa dall'essere e dal vivere la paternità. Giuseppe, che non era il padre naturale di Gesù, ha accolto il bambino fidandosi di Dio e ci ha insegnati che essere genitori è la cosa più facile del mondo, essere padre o essere madre, ma ciò che è impegnativo e che veramente ti fa vivere questa vocazione è la paternità che vivi, è la maternità che vivi. Allora oggi mi fermo qui, domani continuiamo questo discorso che mi sembra importante, ma guardando a Giuseppe chiediamoci e riflettiamo su questa parola. Essere padre non vuol dire sempre e comunque essere certi di farlo bene. Essere padre vuol dire colui che sa vivere la paternità. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!